Benvenuti al centro di notizie e gossip. Prima di entrare nelle novità del giorno, un mi piace e la vostra iscrizione al canale sono per noi segni immensi di apprezzamento. Grazie di cuore. Ora, passiamo a un argomento che ha catturato l'attenzione di molti negli ultimi tempi, il mistero che avvolge Liliana Resinovich. Questa donna di 63 anni, originaria di Trieste, è scomparsa senza lasciare tracce nel dicembre del 2021, e solo dopo 22 giorni, un tragico ritrovamento ha posto fine alle ricerche nel gennaio successivo. La giornata odierna, però, ha segnato un momento di svolta grazie al rilascio di informazioni precedentemente sconosciute, ottenute tramite un'intercettazione ambientale. Una conversazione intercettata rivela un frammento del passato di Liliana, precisamente un episodio avvenuto tra il 1990 e il 1991, che getta una nuova luce sulle dinamiche personali tra lei e Sebastiano, nonché su altri individui vicini alla coppia. Binam, una conoscenza dei due, ha condiviso un momento particolarmente intimo della loro vita, Liliana si trovò incinta di un altro uomo, Claudio Sterpin. Nonostante la delicata situazione, fu Sebastiano a supportarla, accompagnandola all'ospedale per un aborto. Questa conversazione, datata 5 marzo 2022, nasce da una riflessione sul motivo per cui la coppia non avesse avuto figli. Sebastiano, aprendosi su un capitolo doloroso del loro passato comune, ha raccontato di come Liliana gli avesse rivelato la gravidanza e di come lui avesse deciso di sostenerla in quella scelta difficile. Questa rivelazione non solo aggiunge un nuovo strato di complessità al loro rapporto, ma trova conferma anche nei documenti sanitari, che fanno parte degli atti d'indagine, consolidando ulteriormente la narrazione.